Allora, iniziamo appunto col darvi il benvenuti, vi spieghiamo brevemente chi è o che cos'è la Pella Azzurra. La Pella Azzurra è un progetto attivo da parecchi anni che lavora nell'ambito di sportivi, come si diceva appunto già Lara, olimpici, paralimpici ed esporter. Per noi lo sport è uguale e quindi vogliamo sostenere, stiamo sostenendo lo sport italiano tutto. Cos'è il concetto? È un progetto innovativo che include di inclusione sociale, quindi come avete sentito olimpici e paralimpici, quindi abbiamo un'unione di questi due e gli esporter che sono gli sportivi digitali che sempre di più stanno prendendo piede anche con la legittimazione da parte del Comitato Internazionale Olimpico che siano già sport in osservazione all'Olimpia di 2024 di Parigi e poi a Los Angeles dovrebbero prendere piede nel 2028 di fatto come anche discipline olimpiche. La preparazione di un esporter assomiglia comunque tanto alla preparazione di altri atleti, fanno appunto delle preparazioni tecniche, fanno palestra, guardano l'alimentazione, lavorano sulla respirazione e soprattutto l'approccio della parte mentale ed emotiva che è quella che ci compete è fondamentale tanto quanto per tenere la performance durante le loro competizioni che possono durare qualche round da pochi secondi l'uno ma con tornei che magari vanno a durare diverse ore o competizioni anche di un'ora, un'ora e mezzo per cui è similare agli sport tradizionali che hanno sport dove la competizione tutto si gioca in pochi secondi e altri dove invece ci vogliono alcune ore per arrivare alla fine, al traguardo. La nostra Academy, quindi l'Accademy della Pella Azzurra, trasforma gli atleti di talento in atleti da medaglia attraverso appunto una formazione e coaching innovativi. In Italia parla 32 milioni di sportivi italiani, sono tali il numero di persone che dichiarano di essere dei praticanti dello sport in maniera regolare. Ci rivolge a tutte le discipline sportive con appunto un arco temporale da Tokyo che poi è slettato di un anno, quindi appena stato l'anno scorso, Tokyo 2021 e Pechino 2022 che abbiamo già alle spalle ma lo sguardo a Parigi nel 2024 e Milano Cortina nel 2026 e dicevamo appunto Los Angeles nel 2028 ci danno comunque uno spazio di manovra. Poi le Olimpiadi non finiscono e quindi si potrà continuare anche dopo man mano verranno date le assegnazioni. Come lavora la Pella Azzurra? La Pella Azzurra fornisce a degli atleti italiani delle borse di studio gratuite in una numerosità che raggiungerà e supererà le mille unità. Allo stato attuale abbiamo già seguito 147 atleti in maniera completa quindi con la Gold Card che è la massima borsa di studio che è un percorso annuale con delle sessioni di formazione, delle masterclass e anche delle incontri di coaching individuali quando l'atleta lo ritiene in certi momenti particolari dove vuole lavorare un tema un po' in maniera più particolareggiata. Quello che appunto è interessante proprio è la numerosità, le discipline, l'inclusività. È un progetto su un metodo scientifico, certificato, consolidato, che consente a qualunque sportivo, quindi non solo agli sportivi di olimpici e paralimpici, di comunque andare a performare meglio, a migliorare la propria performance seguendo le proprie ambizioni personali, sportive, questo come ritrovando diciamo e affinando le risorse personali e anche i talenti e quindi sia scoprendoli in qualche caso che allenandoli. La pelle azzura come accennavo prima interviene su tre aree che sono l'area mentale, l'area emotiva e quella delle cosiddette soft skills che contano almeno il 40% della performance totale. In diversi sport e secondo certi atleti addirittura questo dato può arrivare anche all'80%, quindi premesso che qualcuno si allena e fa il suo dal punto di vista tecnico, fisico, tattico, ma poi la mente è quella che fa la differenza nel momento delle gare, nel momento performativo. Anche può essere rivolto, come dicevamo, ad atleti, ma anche a sportivi e anche ad allenatori, perché anch'essi avendo a che fare con squadre o con comunque dei giovani o dei meno giovani degli atleti affinando queste qualità e queste capacità riescono ad essere anche più vicini alle esigenze, io dico, moderne di uno sportivo, di un atleta. In realtà in alcuni paesi si parla di mental coaching già da oltre 30 anni. In Italia lo stiamo scoprendo, lo stiamo sentendo dagli atleti che, come alle ultime Olimpiadi, hanno portato a casa parecchie medaglie e hanno affermato appunto che è stato anche grazie al proprio fatto di mettere questo ingrediente in più a lavorare oltre a tutti quegli altri che già sono in essere. La vision appunto è di dare un'opportunità al talento sportivo, tutto, senza differenze, e la mission è quella di mettere al centro la persona, sostenendola, e sostenendo un numero di atleti molto maggiore di quelli che vanno all'Olimpiade. Calcoliamo che mediamente all'Olimpiade estiva, quelle diciamo che si tengono d'estate, vanno circa 300 atleti italiani e le Paralimpiadi circa 100, nell'invernale in una numerosità molto inferiore, e quindi andiamo a seguire una numerosità molto molto ampia. E così per inciso abbiamo portato finora 6 atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi e intendiamo continuare e aumentare questo numero. Bene, allora, in questa direzione abbiamo, ovviamente essendo un progetto che si basa su quelle che sono dell'assegnazione di borse di studio, ha la necessità di poter sviluppare un'attività di finanziamento. In quest'ottica abbiamo preso due grandi strade. La prima è che il nostro intento è quello di rendere accessibile a tutti, anche per quelli che non prendono una borsa di studio, diciamo, completa, la possibilità di utilizzare quelle metodologie che vengono utilizzate dagli atleti che magari aspirano a un'Olimpiade. Questa resa di accessibilità per tutti quanti ci ha permesso anche di costruire degli oggetti che possono essere destinati a un parterre di sportivi molto più ampio. Anche perché siamo convinti, e ne abbiamo avuto conferma poi dialogando anche con tantissime federazioni, che dare delle chance o delle opportunità di accesso a determinati ambiti a giovani talenti, questo permette di farli salire moltissimo a livello di qualità. Allora abbiamo pensato di creare una figura, che è quella dell'advisor, che fosse collegata a persone che siano degli sportivi. Gli sportivi hanno una... in Italia ne abbiamo 32 milioni e sono persone che sono molto appassionate, vivono il loro sport giorno per giorno e a volte investono anche tanto nella propria attività sportiva, anche se i livelli sono molto eterogenei. Allora la logica è stata quella di dire, andiamo a utilizzare questo connubio tra le figure professionali che servono all'interno del progetto con la figura dello sportivo che può essere connessa. E quindi adesso vediamo un quadro di quelle che possono essere le figure, ma soprattutto quelle che possono essere gli elementi di interazione orientati al mondo lavorativo. Scusa, faccio io? Ok. Abbiamo quattro aree molto importanti. Le due che trovate in alto a sinistra e in basso a destra sono quelle legate a una interazione con soggetti che vogliono sostenere il progetto sportivo e vi riporteremo un caso d'uso molto interessante sviluppato a livello territoriale che riteniamo possa essere anche di indirizzo su come lavoriamo. Le altre due aree, quella dell'antestimonial e della masterclass, sono legate al fatto di dare visibilità, dare opportunità a tutte le persone che sono appassionate di un singolo sport. Noi vi seguiamo tutti, tutti quelli che vanno alle Olimpiadi, tutti quelli che vanno alle Olimpiadi e anche tutti quelli che non vanno perché abbiamo tantissimi sport che sono fuori dal Giro Olimpico ma hanno un impatto a livello internazionale molto importante, sia a livello di mondiali, campionari europei o manifestazioni di carattere internazionale pari a un'Olimpiadi. Allora, la masterclass sono invece tutti quei percorsi che noi facciamo per gli atleti che puntano alle Olimpiadi renderli accessibili e costituirli anche per tutte quelle persone che vogliono migliorare la loro performance sportiva e che non avrebbero né l'occasione di opportunità né l'occasione economica di poterlo fare accedendogli direttamente con altre tipologie di sistemi. In tutte queste direzioni vediamo come si muove quello che noi definiamo come advisor. Primo canale, le donation. Ora, molti progetti usano il sistema delle donation per finanziarsi. Noi siamo dell'idea che deve essere un canale dove deve valere il fatto di avere una bidirezionalità. Quindi le classiche strade di beneficenza per noi sono un momento per fare attività di formazione gratuita sul territorio, fare eventi presso circoli o strutture organizzate, abbiamo fatto confederazioni, squadre e quant'altro, sono momenti non solo di diffusione ma di far crescere quello che è un sistema a livello territoriale. In quei momenti ovviamente c'è l'alta direzionalità che permette di acquisire denaro, che permette di sostenere non solo le borse di studio ma tutto il progetto stesso. In questa logica siamo dell'idea, e lo eravamo e lo siamo ancora di più adesso avendolo testato per un po' di tempo, che il coinvolgimento di advisor che siano atleti permette non solo di avere persone che sono, da un punto di vista della competenza, competenti di un determinato mondo, non del singolo sport ma proprio intendo del mondo sportivo e soprattutto dare l'opportunità agli atleti di poter fare un'attività che possa produrre reddito. Uno degli elementi con cui ci siamo scontrati tantissimo è che moltissimi atleti, anche a livello agonistico elevato, hanno la difficoltà di rendere la propria vita sostenibile per poter fare l'attività sportiva. Allora la logica è se dobbiamo coinvolgere delle persone, coinvolgiamo delle persone che sono di quell'ambito e offriamo un'opportunità anche più alta rispetto a quello che si trova nel mercato normale. La logica quindi della struttura della donation è utilizzare la donation come strumento ma farla fare a persone che possono avere l'autonomia di organizzare eventi, presentazioni, diffusione. Noi molto spesso utilizziamo la parola di taste, dell'assaggio, nel senso che possiamo dare, abbiamo diverse forme, degli assaggi di quella che è la formazione che facciamo a un atleta e di quanto si può crescere con questa, facendone in dei luoghi territoriali che magari non avrebbero l'occasione di incrociare questo tipo di opportunità. La seconda e poi la considerazione che facciamo insieme su questo settore e su questo dopo che è la sponsorship, è la stessa identica, cioè le aziende arrivano a contattare una struttura di carattere sportivo per poter fare sponsorizzazione, noi siamo dell'idea che questo tipo di sponsorship vanno esaltate e vanno coinvolti gli atleti, quindi diamo anche la possibilità agli atleti di convogliare degli sponsor. Questo perché? Perché a volte succede che l'atleta, escludendo quello che vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che ovviamente non è il nostro obiettivo perché noi vogliamo dare spazio a chi non ha l'opportunità, può coinvolgere un territorio, un ambito, ma che se rimane solamente legato a quel territorio e a quell'ambito ha una rinomanza per le aziende che interagiscono più piccola, mentre invece noi avendo un impatto a livello olimpico, a livello paralimpico, avendo anche tanti atleti e tanta diffusione, hanno una rinomanza e un impatto sicuramente molto più alto, con forme sia fisiche, sia online, che dir si voglia. Quindi la logica è quella di dire che se dobbiamo coinvolgere e avere un rapporto con queste aziende possiamo dedicare una parte di sponsorship legata al fatto che siano gli stessi advisor a poterci dialogare e ovviamente avere un ritorno economico di questo dialogo. Di qui vedremo questo piccolo, piccolo per il tempo che vi chiamo oggi, ma enorme caso studio che abbiamo fatto con Raymax e che stiamo portando avanti. Ovviamente in questi due casi sia la sponsorizzazione che la donation vengono basate su un ritorno economico in percentuale, sulla sponsorizzazione per l'advisor. Anche qui ci siamo confrontati con soggetti che fanno questo mestiere da tanti anni e abbiamo visto che il nostro posizionamento di ritorno economico è più alto rispetto a quello che si trova normalmente in giro. Poi cambia moltissimo a seconda delle tipologie, ma la logica è quella che più una persona è coinvolta più ha la possibilità di poter guadagnare su questo e soprattutto guadagnare in un settore che è quello che è legato alla sua passione e alla sua attività. Questa è una logica, cioè la persona che entra come advisor può rappresentare il proprio sport e lo può fare attraverso, dandogli l'opportunità di scrivere articoli sul proprio sport, intervistare dei campioni, avere la visibilità per il suo talento e diventare un punto di riferimento a quello che è la propria dimensione sportiva. Oltretutto poi la possibilità di accedere ai percorsi della Velle Azzurra è organizzare eventi sul territorio, come dicevamo prima, per l'area donation. Quindi una mistura di opportunità. In questa direzione andiamo anche a prendere quella che è la possibilità di sfruttare tutta quell'area che noi utilizziamo di finanziamento andando a rendere accessibili questi percorsi anche a tutti gli sportivi a livello nazionale. Adesso vi riportiamo solamente un dato per darvi delle idee. Noi organizziamo delle masterclass per far accedere agli sportivi che vogliono migliorare la propria performance, organizziamo dei percorsi formativi con diverse modalità temporali e lì trovate un nuovo caso studi, la Sport Cruise. Ora, per la configurazione della nostra associazione, per il fatto di quello che facciamo e come lo facciamo, per la nostra trasparenza e anche, mi permetto di dire, per i risultati che otteniamo prendendo atletiche in cui riscontriamo il talento e lo facciamo uscire fuori trasformandoglielo, come diceva Sara, in medaglia, abbiamo creato un evento unico che è la Sport Cruise, cioè abbiamo fatto un accordo con MSC Crociere per creare un oggetto che non era stato mai fatto prima. Anche lì stiamo attivando una serie di canali che ci permettono di coinvolgere i singoli sportivi per poter fare l'attività di diffusione e vendita, se vogliamo formalizzata da un punto di vista, diciamo, asettico, ma soprattutto di coinvolgimento e quindi della possibilità di partecipare a un evento di una dimensione molto più grande. Allora, vediamo questi due casi e poi ripasso la palla a Sara. Non si vede? Ah, ok. Per darvi l'idea, i partner siamo la pelle azzura per quanto riguarda la formazione, la Sport Cruise è una crociera di cinque giorni in cui si fa formazione in nave, in cui si ha la possibilità di incontrare atleti che sono andati alle Olimpiadi, di poterci dialogare, creando un gruppo di una dimensione fuori scala, perché i posti su quella nave sono cinquecento. Abbiamo preso un grande partner come MSC Crociere, è entrata a Going for Cruise per poterlo diffondere come attività alternativa da un punto di vista, gli è piaciuto molto perché è un prodotto che non esisteva prima. Questo tipo di logica vuol dire esaltare anche la visibilità. Chi sale su quella nave è sicuramente... La proporzione tra i sportivi che vanno in Olimpiadi e i cinquecento che vanno in nave è la stessa. Quindi per darvi l'idea è creare una sorta di privilegio, ma soprattutto farlo senza che questo costi quanto un privilegio e questo permette un'accessibilità maggiore. L'altro caso... Oh, mi sono... Chiedovenia? Forse l'ho messo dopo? Chiedovenia io? No Ale, forse... Ok. Allora, l'altro caso ve lo racconto, è Remax Italia. Abbiamo deciso di coinvolgere a livello territoriale quelle che sono le agenzie di un grande soggetto di intermediazione immobiliare con la volontà di poter far sostenere a ogni singola agenzia degli atleti che siano legati al proprio territorio. Questo fa sì che si vada a coprire e così vi diamo anche un'idea di come noi creiamo le partnership e come pensiamo che gli advisor possano muoversi per poter fare questo tipo di attività di creare un legame tra chi lavora in un territorio e gli atleti, atleti sportivi... Non ci interessa che sia l'atleta che vuole vincere l'Olimpiade, l'atleta che vuole... che crede che lo sport sia parte o tutta la sua vita e che vuole migliorare la sua performanza sportiva e che lo farà crescere sicuramente. Noi abbiamo tantissimi casi di atleti che sono cresciuti sia a livello sportivo ma sia a livello anche lavorativo e nella propria vita. La logica quindi è quella di aver creato questo tessuto con tutte quante le agenzie che sceglieranno tanti atleti sul territorio in modo tale che l'agenzia abbia un ritorno e abbia tra virgolette la possibilità di associarsi a un progetto di un livello molto più alto. Questa attenzione al territorio è la stessa che noi diamo volendo avere degli advisor che possano avere l'opportunità di fare un'attività che normalmente si fa gratuitamente. Vedi, scrivo l'articolo sul gruppo Facebook per raccontare che la partita di basket o di pallavolo è andata in questo modo o in quell'altro ma far sì che quel canale sia un canale per poter essere associato a un progetto più grande e che possa sviluppare attività che possono produrre il reddito. Adesso vi faccio una battuta e poi passo la palla a Sara che quando ci siamo confrontati con dei soggetti che operavano nel mondo delle onlus e del volontariato dei soggetti molto importanti ci hanno detto che siamo riusciti a trovare un sistema per far sì che il volontariato abbia un reddito e che soprattutto abbia un reddito che non sia riborso spese ma che sia catalogato e strutturato per poter dare un'opportunità che prima non c'era e che quindi poteva essere un'occasione di trasformare la passione che ha uno nel proprio sport in un'attività che gli permette anche di vivere cosa molto rara nel mondo sportivo italiano. A te Sara. Sì. Appunto all'interno della Pella Azzurra che è un'associazione no profit c'è appunto un'academy in questa academy ribadisco i tre concetti chiave che sono appunto il fatto che c'è un gruppo unico o meglio tante classi non è detto per forza che si lavori sempre in 500 come sarà in crociera ma ci sono anche delle masterclass con 15-20 persone però dove la miscela di discipline diverse porta gli atleti stessi gli sportivi stessi a scoprire delle cose del proprio sport che a volte si danno per scontate mentre parlando tra persone ciclisti con ciclisti golfisti con golfisti e così parlano come dando per scontate delle cose dovendosi incrociare dovendosi confrontare esplicitare anche le cose che a loro sembrano banali scoprono un mondo di cose e questo è un accelerante quindi è qualcosa che accelera perché permette di scoprire tante cose in più la formazione come accennavo prima è disruptive nel senso che è blended quindi anche al vis-à-vis e all'online oppure al gruppo intero e l'individuale e poi appunto questo è il mix di persone con discipline diverse con età diverse con esperienze diverse essere normodotati olimpici scusate paralimpici ed esporter insieme è proprio qualcosa che non si trova di solito e davvero dà una grossa spinta e un coaching innovativo e poi andrò a parlare adesso del mental coaching sportivo proprio per per essere autonomi quindi l'innovazione è il fatto che comunque per quanto ci riguarda una persona deve diventare autonoma nel poter usare questi strumenti allenare queste componenti mentali ed emotive in cosa consiste il mental coaching sportivo quindi è una delle parti del mental del coaching è quella dedicata proprio agli sportivi noi a volte sostituiamo questo concetto con il concetto di performance coaching è una metodologia che consente appunto di raggiungere grazie al supporto fornito da un coach obiettivi sfidanti vuol dire che sono obiettivi che una persona reputa che da solo forse è un po' complesso e quindi c'è del c'è quella frenesia c'è quella quella sfida migliorando la performance e valorizzando le potenzialità appunto è ampiamente provato come dicevamo prima tante casistiche tanti atleti tante situazioni portano proprio a dire come sia in ambito sportivo i nostri atleti ci riportano che poi anche in ambito personale sia come studenti a volte universitari ancora o sia come professionisti o anche come membri di una famiglia o di una squadra hanno questi strumenti li usano e li applicano anche per risolvere per trovare benessere in quegli ambiti e trovare appunto strategie che migliorano il performare ci tengo a specificare la diversità comunque di un approccio psicologico e psicoterapeutico esistono anche degli psicologi dello sport all'interno del team della pelle azzura ci sono anche psicologi dello sport normalmente quello che fa un mental coach al di là della laurea o del percorso formativo che occorre per arrivare ad avere questo titolo perché anche il coaching è un titolo comunque regolarizzato in Italia come figura professionale così come lo psicologo o lo psicoterapeuta in ambiti chiaramente differenti non affronta il mental coach delle situazioni patologiche anzi durante la formazione in coaching si impara anche a riconoscere eventuali segnali e fare l'invio a un professionista di un altro livello laddove ci sono sofferenze psicologiche importanti l'approccio invece è mirato all'azione quindi al cosa posso fare oggi domani dopo domani tra un mese e quindi è verso lo raggiungimento di un obiettivo e quindi anche verso il raggiungimento il miglioramento della propria capacità di usare le potenzialità e i talenti è una guida verso il presente e il futuro quindi raramente si va nel passato solo quando serve eventualmente a pizzicare un aspetto o un qualcosa come l'esempio del precedente positivo a volte quando ci crediamo di non saper fare qualcosa ricordarci che in passato in una situazione di difficoltà siamo stati capaci di smuovere di generare un cambiamento positivo può essere utile andare a prenderlo per dire ok l'ho già fatto una volta lo posso anche fare anche se ora magari mi trovo in difficoltà e non vedo una via di uscita altrimenti appunto resta resta comunque questo nel campo comunque del coaching ci sono anche dei nomi famosi di psicologi psicoterapeuti come per esempio Martin Seligman che è l'ideatore della psicologia positiva che è un po' la base di quello che ha anche tutto il mondo dell'intelligenza emotiva come anche Goleman per essere in Italia ci sono anche psicoterapeuti che lavorano in ambito sportivo e con tecniche particolari loro proprio mirate anche sullo sport quello che sono ok i campi di competenza del coach sportivo sono quelle seguenti quindi per seguire un atleta anche in maniera individuale sono sicuramente la motivazione quindi l'orientamento al compito a quello che è da svolgere la motivazione per noi è qualcosa di interno non è la persona che da fuori dice dai 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 quello può aiutare temporaneamente in un momento magari di stanchezza però bisogna costruirla dentro la motivazione l'allineamento con uno stimolo quindi avere una qualcosa di appunto dall'interno quindi non solo il premio la medaglia ma che cosa mi stimola a vincere a fare tutti questi sacrifici che talvolta l'allenamento richiede rinunce cresce la fiducia verso se stessi quindi se cresce la fiducia si è più efficaci quindi più che l'autostima è l'auto efficacia in realtà perseverare nell'allenamento anche delle potenzialità personali ottimizzare lo stato pre-gara questo è importante perché spesso atleti riportano che in allenamento riescono a ottenere dei risultati anche abbastanza con facilità che poi in gara non riescono a portare e qui c'è proprio lo stato pre-gara quindi ridurre lo stress rinforzare la fiducia a se stessi regolare anche il carico psicofisico sostegno dopo le gare quindi anche magari l'elaborazione sia dei successi che degli insuccessi perché per un atleta che ha vinto l'Olimpiade affrontare la prossima gara diventa può diventare molto stressante perché tutti si aspettano di vedere cosa fai quindi c'è un carico molto più importante che dici beh se hai vinto l'Olimpiade allora adesso nel campionato italiano del paccherai ma magari un giorno si è meno in forma magari un giorno ecco non si performa da medaglia o da primo posto e questo non toglie nulla però questa cosa va lavorata sia quindi quando si è successo come affrontare questo come metterlo come festeggiarlo ma anche come non renderlo un ostacolo per le gare successive e anche quando c'è un insuccesso andando a vedere che cosa non ha funzionato analizzando e vedendo anche le prospettive di cambiamento la preparazione della forza mentale questo perché può essere la costruzione dello stato di flow quindi la massima concentrazione e l'allenamento mentale quindi anche quello che è il dialogo interiore che spesso gioca contro o creare attraverso delle imagery delle visualizzazioni specifiche degli stati che si desidera raggiungere questo è un po' quello di cui si occupa un mental coach sportivo può occuparsi di un mental coach sportivo noi cosa consigliamo noi non siamo una scuola di formatori di coach sportivi ne conosciamo ne abbiamo frequentate almeno tre perché anche nelle formazioni negli aggiornamenti si continua a studiare si continua a restare al passo si fa supervisione quindi come in molti lavori lo studio non finisce mai però se questo poi a passione piace è in fondo anche per la qualità che si eroga al cliente quello che di solito consigliamo magari a chi ha voglia soprattutto se è uno sportivo è di provare è di fare noi abbiamo chiamato Olympic Masterclass quindi un po' una classe simile con quella che facciamo gli atleti dove ci sono delle aule proprio sulle risorse sulla formulazione dell'obiettivo sulla formazione del piano d'azione delle web di approfondimento quindi dove si imparano già degli strumenti per la persona stessa ma anche per capire se questo lavoro questo modo di approcciare è qualcosa che piace ci sono delle sessioni individuali chiaramente anche per discutere di queste cose e comprendere degli assessment di intelligenza emotiva noi ci appoggiamo ci avvaliamo della collaborazione con Six Second che è un'organizzazione mondiale no profit che ha l'ambizione di portare nel mondo entro il 2030 un miliardo scusate di persone che sono più allenate dal punto di vista dell'intelligenza emotiva che non è contrapposta a quella diciamo classica al cui ma è un qualcosa che aiuta invece a governarla a prendere decisioni ad ascoltare le emozioni a navigarle e quindi anche essere strategici nelle scelte che si fanno dopodiché se una persona è interessata appunto a fare il percorso di mental coaching come dicevo possiamo indicare delle scuole specifiche non è il nostro target però a volte lì tu entri hai un bagno di magari giornate settimane di studio e hai pochi casi pratici mentre invece noi poi nel caso qualcuno scelga di fare una pratica professionale con la pelle azzurra noi possiamo anche avere un affiancamento quindi attribuire degli atleti nelle sessioni individuali anche con una supervisione all'inizio ma rimane sempre perché come abbiamo detto il bello è continuare a mettersi in gioco e continuare comunque ad affinare le proprie capacità relazionali di ascolto di restituzione e questo è bello appunto poterlo ogni tanto guardare una sessione che con Alessandro facciamo magari viene vede e ci si dice quello che è il processo se sta funzionando se si possono applicare dei correttivi e quindi anche puoi trovare all'interno della pelle azzurra come vi dicevo tanti sportivi seguiamo non possiamo solo Alessandro io seguirli in individuale ma abbiamo bisogno abbiamo volentieri appunto posti di lavoro bisogno di coach o di psicologi dello sport per affiancare entrare e rafforzare il nostro team da questo punto di vista la performance è proprio per questo dicevo che è un po' il nome è questo perché è un incrocio proprio lì nel fulcro di quelle che sono le competenze tecnico-professionali se prendo per esempio il coach anche un coach per forma ha imparato delle tecniche degli strumenti ha delle competenze comportamentali che qualcuno è più predisposto magari all'ascolto al non giudicare però è qualcosa che comunque si allena alla motivazione chiaramente dicevo anche del migliorarsi del mettersi in gioco del fare il passo indietro il coach è a fianco il suo coach non è davanti non guida accompagna e quindi tutto questo sono elementi che portano a performare meglio e sono da non sottovalutare ecco mi piacerebbe chiedervi se a fronte di questo magari siete sportivi magari magari siete appunto appassionati dello sport se siete qui probabilmente il titolo vi ha tirato di come fare dello sport insomma della propria passione è anche un lavoro vi chiedo se avete voglia di indicare nella chat anche se un pochettino l'abbiamo detto quanto conta secondo voi per la vostra esperienza la parte mentale nella performance sportiva qui magari chiedo a te Ale se eventualmente è tutto un po' grande se ci fossero domande o così e poi vi lasciamo un regalo esatto proprio per per la collaborazione che abbiamo con questo partner scientifico che è Six Second abbiamo possiamo appunto offrirvi gratuitamente ai partecipanti che lo desiderano una un assessment di intelligenza emotiva questo è un assessment che richiede una decina di minuti sono circa 66 domande che si ci si prende un momento diciamo di fila si risponde in base all'autopercezione quindi non esistono domande risposte giuste risposte sbagliate va proprio a misurare e poi c'è un algoritmo di intelligenza artificiale degli incroci che incrociano tutte le risposte date precedentemente mondialmente e nesce un report il report che è fruibile consultabile appunto anche dal singolo che poi non avrà a che fare con noi perché i report poi ce ne sono svariati che danno indicazioni di profondità molto diversi il report più completo è quello sia dello sviluppo della persona secondo la leadership hanno circa 40 pagine quindi hanno molta indicazione anche su esercizi su come allenare questo è un primo report che dà un pochettino la radiografia in questo momento della vostra se scegliete di farlo intelligenza emotiva e quindi appunto vi darà già qualche pista qualche prima indicazione e sotto dove vedete le chiavi si chiama proprio unlocking come aprire delle porte ci sono delle domande perché il coaching di solito procede per domande non ha già le risposte ma pone le domande che poi permettono all'atleta come dicevamo prima allo sportivo di scoprire di se stesso perché le risorse sono dentro la persona stessa ma a volte non si sa dove vederle o come vederle o non si dà il valore adeguato strategicamente per cui vi lo potete richiedere in che modo allora abbiamo messo questo è un po' sono sport che abbiamo che abbiamo toccato quindi sono sia olimpici che paralimpici ma come vedete la pluridisciplinarietà è molto è molto ampia prima di lasciarvi i nostri contatti e quindi anche lasciare lo spazio se ci sono delle domande mi piace citare questa frase di Seneca la fortuna non esiste ma esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione e forse queste professioni che vi abbiamo presentato oggi questo mondo che vi abbiamo presentato oggi può essere l'occasione che incontra il vostro talento e questo potrebbe essere il momento per andare in questa direzione professionale questi sono il nostro sito i nostri contatti quello che posso proporre sicuramente è di scrivere una mail a info chiocciola lapelleazzurra punto it e chiedere il report di intelligenza emotiva in questo modo avremo il vostro la vostra mail e possiamo inoltrarvi il link nel quale fare questo report che arriverà poi direttamente nella casella elettronica che indicherete questo primo report e poi naturalmente siamo a disposizione per un confronto per approfondire e già da ora invece per rispondere a eventuali suggestioni o domande che sono sorte nella presentazione allora aspettiamo le domande ci sono Maria ci chiede quanto può incidere questa attività nelle performance dipende dall'attività sportiva sport di gruppo individuale ok e poi non abbiamo altre domande allora vuoi no è indifferente allora in realtà noi all'interno della squadra lavoriamo in due ambiti o meglio dipende com'è la richiesta comunque lavoriamo spesso con atleti che fanno parte di una squadra ma scelgono individualmente di lavorare delle componenti spesso nel caso di infortuni è una cosa che forse non ho citato ma il coaching sportivo serve a prevenire gli infortuni e anche a recuperare più rapidamente soprattutto gestire quella fase di incertezza abbiamo un atleta che avevamo invitato oggi ad esserci ma poi è stata intervistata proprio in concomitanza Desiree Carofiglio lei appunto è un atleta di ginnastica ha vinto forte è giovanissima quindi è andata veramente a livello mondiale con dei grandi numeri ha avuto un infortunio sulla trave e da lì adesso lei sta riprendendo di nuovo il nazionale di nuovo è andata in Giappone non per le Olimpiadi ma per dei campionati mondiali è stata a nord ne abbiamo talmente tanti ma comunque a nord dell'Europa per degli altri campionati e sta proprio lavorando anche la paura a volte perché quando fa un infortunio che è legato ci si preserva giustamente il nostro cervello va in protezione e quindi anche un atleta di una squadra può lavorare in modo singolo oppure la squadra può lavorare anche nel suo globale senza dover lavorare l'individuale noi di solito quando affianchiamo le squadre consigliamo al titolare il dirigente insomma chi ci ingaggia nel caso di dare la possibilità di attivare anche delle sessioni individuali proprio al momento che serve una squadra di calcio femminile avevamo beh la persona che doveva rientrare ad un infortunio magari l'ennesimo quindi c'era molta tristezza durante il campionato ma anche per esempio qualcuno che aveva un trauma nel poter prendere la palla con la testa chiaramente nel calcio ogni tanto sarebbe utile strategico non è prevalente però un gesto che qualche volta non farlo è voluto affrontare per esempio questo timore che derivava da una brutta esperienza quando era piccola oppure altre situazioni di questo tipo per cui anche proprio nell'individuale ma si può fare un ottimo lavoro anche nel collettivo non so se hai risposto Maria alla tua domanda e anzi io aggiungerei che sull'incidenza l'incidenza è almeno il 40-50% sulla performance la parte mentale incide ci sono situazioni e sport che qui arriva anche all'80-90% e collegherei questa affermazione a una cosa che se ho letto bene di Nadine è vero che lo sport ha tante figure professionali assolutamente ci sono le figure professionali di carattere tecnico quelle manageriali quelle mediche e c'è la figura professionale del mental coach e che siamo dell'idea che all'interno di una struttura che fa attività sportiva debba esserci proprio uno staff che possa avere tutte queste figure professionali ognuna dà il proprio contributo sul suo settore e più è alta la professionalità dei singoli tanto di più si riesce a creare un gruppo che possa essere di supporto all'elenco degli sportivi o alla squadra o che dir si voglia quindi in questa direzione è molto importante che ci sia una relazione tra i soggetti che interagiscono molto spesso questa cosa non è così frequente non solo con la presenza del coach ma anche con l'assenza di altre professionalità che invece possono essere di grande utilizzo e quindi ovviamente essere di beneficio per i singoli per i singoli atleti sì abbiamo delle posizioni aperte come dicevamo prima e quindi volentieri sia per mail oppure se andate nel sito trovate proprio lavora con noi dove potete lasciare metto il link se vuoi ah sì eventualmente esatto e quindi sì per cui assolutamente può essere interessante grazie Alessandra che hai dato questa suggestione di appunto abbiamo delle posizioni aperte sì perfetto mi sembra che non ci siano altre domande e Alessandra ringrazia per il webinar molto affermativo e noi vi ringraziamo nuovamente per la vostra partecipazione e vi auguriamo una buona serata e ringraziamo tutti gli altri partecipanti grazie e a te per la moderazione Laura grazie